A tempo la Regione abbatte l'IRAP per il 2014 per start-up e imprese high-tech. Sì, nuove imprese innovative che hanno determinati codici ma sono sostanzialmente quelle che fanno innovazione, fanno high-tech, fanno ICT. E' in un quadro un po' più ampio di provvedimenti che stiamo allestendo, in parte abbiamo allestito, poi saranno quelli dell'assessore Simoncini che riguardano questa materia e la proietteranno anche sul filone degli aiuti europei. Dobbiamo dare un segnale forte al settore, quello dell'innovazione e a chi ci lavora, spesso giovani, che in questa Regione possono trovare motivo in più per iniziare un'attività che può mettersi sul mercato e che di sicuro sarà determinante già ora ma anche nel momento della ripresa perché è chiaro che luoghi dove si esprime la qualità si devono basare su conoscenza, sapere, innovazione e quindi alta tecnologia. Noi abbiamo ad oggi un buonissimo risultato sulla creazione degli spin-off dalle nostre università perché siamo la prima Regione in Italia. Siamo solo sesti nella creazione delle start-up, cioè di come questi spin-off che fanno parte della ricerca e continuano una loro attività di ricerca si trasformano in attività economiche e quindi bisogna ulteriormente spingere per fare in modo che diventino anche delle aziende. È chiaro che in Toscana non ci sono un numero enorme di grandi aziende che possono essere dei clienti per queste nuove start-up, ma dobbiamo comunque incentivarle perché ce ne siano sempre di più e che si possono rivolgere anche nelle regioni limitrofe e a livello nazionale e internazionale.